Buongiorno e benvenuti alla demo Yotafone sulla gestione dei propri impegni. Yotafone ha pensato a due widget appositi sullo schermo Always On che ti aiuteranno ad organizzare al meglio il tuo tempo. I widget calendario e prossimi eventi ti saranno utili a ricordare le cose da fare nelle giornate a venire. Come tutti i widget Yotafone, anche calendario è interattivo. Cliccaci sopra per visualizzare l'elenco dei compiti e cose da fare per il giorno corrente o per l'intero mese. Yotafone ti avviserà anche riguardo agli appuntamenti più importanti facendo partire un conto alla rovescia prima degli eventi stessi. Con Yotafone pianificare il tuo tempo sarà un gioco da ragazzi.